Passing di Caserta che mette subito in chiaro che vuole difendersi e giocare questa partita Passa a zona, Caserta ne vedremo tanto, probabilmente da una parte e dall'altra Bulleri arresto, tiro e canesto del Bullo Il movimento di Bulleri se ce n'è uno, falleggereste tiro dalla media non sbaglia quasi Campo anche Mavra Ides per Caserta che aveva iniziato il campionato con la maglia della Scandone Avellino Passato sull'altra sponda, campana, marconato per Bulleri che si gira sul piede perno Si butta dentro, canesto di Bulleri, grandissima fattura Si è appoggiato al difensore